Cedimento improvviso sul ponte di Viale Rezia a Saronno che scorre sopra il tracciato ferroviario della linea Milano-Laveno-Mombello. La struttura che collega Saronno a Gerenzano presenta ampie crepe nell'asfalto e sulla rampa percorsa da chi proviene dalla zona dei centri commerciali il terreno ha ceduto ampiamente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 dicembre. Sul posto si sono precipitati diversi mezzi dei vigili del fuoco che hanno chiuso il tratto di strada interessato, isolata la zona che comprende anche alcune villette e fattorie in mezzo alla campagna. Si tratta ora di capire cosa accadrà per il passaggio dei treni. È fondamentale mettere in sicurezza la struttura il prima possibile, ma il buio certamente non aiuta in questo frangente. I problemi sul ponte di Viale Rezia non sono una novità assoluta. Già un paio di anni or sono, sul cavalcavia erano apparsi una grossa crepa e una buca profonda. All'epoca però, dopo i primi sopralluoghi e la successiva messa in sicurezza, le verifiche avevano garantito la stabilità del ponte.